Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura la pagina politica presentati questa mattina a Pescara nel corso di due distinte conferenze stampa i candidati della lista noi con l'Italia Udc e della Lega con Salvini Premier Salvini che sarà domani pomeriggio in Abruzzo e precisamente a Colonnella in provincia di Teramo vediamo insieme il servizio di Paolo Renzetti raccogliere i voti dei delusi del centro-sinistra e dal PD e di quanti non si riconoscono nella proposta dell'ala destra della coalizione di centro-destra e questo l'obiettivo di noi con l'Italia Udc che ha presentato le sue candidature per Camera e Senato accanto al segretario dell'Udc regionale Enrico Di Giuseppe Antonio attualmente sindaco di Fossa Cesia ci sono due big del terramano come Giulio Sottanelli e Gianni Chiodi il presidente merito della regione Abruzzo proprio per l'ultimo ha scelto la lista centrista dopo l'esclusione dalle candidature di Forza Italia che ha scelto di non presentare consiglieri regionali in carica. C'è una delusione per i territori, c'è un'assenza di considerazione dei territori di Teramo e dell'Aquila e questo purtroppo è un errore di Forza Italia, però noi ci siamo, cerchiamo comunque di rappresentarli, faremo del nostro meglio, una bella squadra direi, personalità importanti da Giulio Sottanelli a Gaetano Quagliariello a Enrico Di Giuseppe Antonio, tutte personalità che si sono anche contraddistinte per un'attenzione verso i loro territori di riferimento. La grande fuga di D'Alfonso dovuta al fatto che presto saranno evidenti tutte le filmisterie il castello di chiacchiere che ha creato e quindi scappa, scappa verso il Parlamento, rimette in gioco la regione e tra sei mesi quando si andrà a votare la regione sarà una partita tra 5 Stelle e centrodestra. Sempre nel campo del centrodestra giovedì in Abruzzo arriverà il leader della Lega Matteo Salvini, l'unica tappa regionale in programma e prevista a Colonnella in provincia di Teramo con inizio alle ore 18 alle Cineplex Arcobaleno. Matteo domani verrà in Abruzzo, verrà a supportare la sua squadra sul territorio regionale. I punti fondamentali di questa rivoluzione del buonsenso che vanno a una situazione di abbattimento della legge Fornero, alla crescita del lavoro, dell'occupazione, al ripristino della legalità e della sicurezza soprattutto per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione e poi a scendere anche per quanto riguarda tutte le questioni relative alla pace fiscale e agli aiuti, alle famiglie, agli imprese per poter permettere a questa nostra emozione di ripartire. Adesso la cronaca è morto questa mattina all'ospedale di Pescara, il 25enne di Civitacuana che era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 29 gennaio sulla strada regionale 602 che collega Catignano a Civitacuana. Il giovane era la guida di una moto quando ha perso il controllo del mezzo che era prima finito a terra e poi contro un palo. Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Pescara, ricoverato nel reparto di rianimazione, non si è mai ripreso e questa mattina c'è stato il decesso. Proseguiamo con la cronaca. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla morte dei due esciatori avvenuta sulle piste di Campo Felice durante un fuoripista. Per ora si agisce contro ignoti ma non sono esclusi prossimi avvisi di garanzia. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. La Procura della Repubblica dell'Aquila, come era nelle previsioni, ha aperto un'inchiesta sulla tragedia dei due esciatori romani, Massimo Urbani e Massimo Franzè, morti domenica dopo essere stati travolti da una slavina, mentre erano intenti a sciare a Campo Felice in un fuoripista nella zona dell'anfiteatro assieme ad un amico che invece fortunatamente si è salvato. Per ora il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, che è David Mancini, indaga contro ignoti ma questo non esclude che prossimamente possano esserci anche degli iscritti nel registro degli indagati. Al vaio del magistrato c'è ovviamente un'informativa consegnata dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo e la testimonianza del superstite che è ancora ricoverato all'ospedale San Salvatore del Capoluogo. L'uomo ha raccontato che lui e i suoi compagni, prima della tragedia, erano stati preceduti da uno snowboardista e che avevano deciso di percorrere lo stesso il tragitto. L'autopsia sugli esciatori effettuata all'Aquila ha stabilito che la causa dei decessi sono i traumi riportati nello schianto con gli alberi nel bosco, non il soffocamento causato dalla slavina che li ha ricoperti. Il riferimento alle condizioni invece del sopravvissuto è ancora in prognosi riservata, anche se ci sono lievi miglioramenti. L'uomo è vigile ma è stato di sciocco ovviamente nel reparto di chirurgia. Proseguiamo con una operazione della Guardia Costiera che ha sequestrato oltre tre quintali di pesce negli ultimi giorni, in particolare ispezionando un peschereccio appena rientrato in porto in cui è stato rinvenuto del pescato in quantità eccedente rispetto alla massima quantità consentita. Al trasgressore è stata combinata una sanzione amministrativa di 4.000 euro ed il pescato 135 kg di vongole è stato rigettato immediatamente in mare. Nei giorni scorsi negli stessi militari, in occasione di altri controlli, avevano combinato sanzioni pecuniarie per 13.000 euro e posto sotto sequestro 200 kg di pescato in quanto privo di qualsiasi documentazione utile a certificarne la tracciabilità, aspetto essenziale per fornire al consumatore la certezza della qualità del prodotto ittico. Ed ora siamo ai dati che riguardano l'economia. Continua a decrescere il tessuto imprenditoriale artigiano della regione male tutte le province secondo quanto emerge da uno studio fatto realizzare dalla CNA. Vediamo. In Abruzzo sono state perse 4.206 imprese negli ultimi 5 anni. A dirlo è uno studio commissionato dalla CNA ad Aldoronci e realizzato sulla base di dati Movi Imprese. Lo scorso anno il saldo delle imprese del settore artigiano ha fatto segnare un meno 600 aziende. Negli ultimi 5 anni l'insieme delle imprese attive è passato da 131.072 del 2012 a 126.866 del 2017, evidenziando una flessione del 3,21%, valore doppio rispetto a quello nazionale, fermo all'1,71%. Nel 2017 il saldo tra le nuove iscrizioni delle imprese e le cancellazioni mette in luce un incremento di 563 unità che si traduce in una crescita dello 0,38%, più modesta rispetto al dato nazionale dello 0,75. Se inoltre al saldo si somma il dato relativo alle cancellazioni d'ufficio, nel 2017 il numero delle imprese attive in Abruzzo subisce una flessione di 197 unità. Ogni chiusura è un danno economico per il territorio ma anche una perdita di saperi, competenze e mestieri, dice Savino Saraceni, presidente regionale di CNA. Abbiamo avanzato una serie di proposte alla regione, continua il presidente, che però non ha investito neanche un euro sui nostri progetti per rilanciare l'artigianato. La maglia nera tra le province e Chieti a seguire l'Aquila, Pescara e Teramo. I decrementi percentuali delle quattro province abruzzesi sono tutti superiori al dato nazionale. Le imprese artigiane in Abruzzo hanno subito variazioni negative in quasi tutte le attività economiche, ma in particolare nell'edilizia, nell'industria manifatturiera, nei trasporti e nella ristorazione, in lieve controtendenza ai settori pulizia e giardinaggio e servizi alla persona. Proseguiamo parlando di lavoro. Tu ha presentato il piano di assunzioni. Sono ufficiali 79 nuovi ingressi. In arrivo anche 200 nuovi mezzi autobus. Ascoltiamo. Le assunzioni che noi prevediamo di fare prima dell'inizio della stagione estiva sono 79. In particolare 55 riguarda operai specializzati di officina, perché la scelta aziendale è stata quella di riportare tutte le manutenzioni all'interno della società. Diciamo che questo primo esperimento che abbiamo fatto ci ha dato già dati molto significativi. Abbiamo abbattuto il 33% i fermi tecnici. Purtroppo uno dei punti critici nostri riguardano la vetustà media dei veicoli, che oggi è 12,8 anni, quindi è notevolmente alta. Abbiamo predisposto un piano con la regione Abruzzo per l'acquisto di 206 autobus nel giro di due anni, 2018-2019. Oggi il parco nostro ammonta 865 autobus, quindi è una iniezione notevole. La sostituzione di mezzi obsoleti abbastanza estesa. Il fatto sta che ridurre la vetustà media a 9,7 anni si farà cambiare la situazione aziendale. Un'altra assunzione che facciamo è quella di rimpiazzare il personale viaggiante attraverso 20 assunzioni. Queste saranno immediate perché attingiamo personale dalla graduatoria che sono oramai, con queste 20 assunzioni, la graduatoria del concorso precedente va a esaurimento. Quindi c'è da anche programmare un nuovo concorso, ma che avverrà dopo la stagione estiva. In fine sono tre dirigenti. Abbiamo riproposto alla regione un nuovo organico, un po' per il problema dirigenziale la sostituzione di un pensionamento e l'altra è coprire due posti che sono nevralgici. Il direttore del ramo Ferrovia. La seconda assunzione che io ritengo strategicamente fondamentale è di trovare un dirigente di alta specializzazione nel settore informatico, perché tu appunta all'informatizzazione di tutti i settori. Ora ci spostiamo a Teramo. Sarà difficile salvare i posti di lavoro dei dipendenti della cooperativa sociale Tercop che da 25 anni gestisce gli stalli a pagamento della città. L'arrivo dei nuovi parcometri genererà inevitabilmente nuova disoccupazione. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. 27 dipendenti della Tercop in bilico a Teramo. Sono i parcheggiatori della cooperativa sociale che da oltre 25 anni gestisce gli stalli a pagamento in città. L'arrivo già programmato dalla passata amministrazione comunale e dei nuovi parcometri metterà a rischio molti di questi posti di lavoro. In attesa della nuova gara i sindacati stanno tentando una mediazione con l'attuale commissario prefettizio per reimpiegare i possibili disoccupati in lavori utili al comune. Che cosa prevedete per i vostri 27 lavoratori? Per noi cooperativa è difficile prevedere perché le scelte non stanno in mano nostra, sta in mano al commissario in cui si stanno rapportando anche i sindacati per cercare una via d'uscita per salvare il massimo dei posti di lavoro. Ieri c'è stato questo incontro e quindi pare che ci sia una prospettiva di fare una gara non al massimo ribasso o rialzo in questo caso che penalizzerebbe al massimo l'occupazione perché a quel punto tutti dovrebbero licenziare il massimo del personale per avere la possibilità di vincere la gara. Quindi se viene evitata la gara al massimo ribasso una cifra sarà stabilita dal comune, eventualmente qualche occupato in più si potrebbe ricavare dalla rinuncia eventuale agli utili di soggetti offerenti. Comunque non tutti i 27 resterebbero al lavoro? Questo sarà molto difficile, è chiaro che dipende dai numeri, se il comune ad esempio intende guadagnare molto di più rispetto a quello che guadagna oggi, è chiaro che i miracoli non si possono fare. Secondo lei i parcometri a pagamento sono meglio dei parcheggiatori? Allora su questo evidentemente i terramani noi abbiamo un'idea sicura e precisa, tanti hanno apprezzato il nostro lavoro in 25 anni, non abbiamo elevato una sola multa per un ritardato pagamento, i vari specchietti rotti negli spazi di manovra sono stati rimborsati, quindi diciamo che qualcosa abbiamo offerto, in 25 anni non c'è mai stato un furto di auto oppure all'interno delle auto, sono cose che magari quando ci stanno non si apprestano molto. Poi magari il giorno che purtroppo mancheranno e magari ritornerà il cliente con la macchina danneggiata non si potrà rivolgere a nessuno, oppure magari una multa perché dopo mezz'ora non si è fatto in tempo a ritornare, è chiaro che qualcuno forse poi... Si rimpiangerà? Forse, forse. Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di ambiente, pronto un ricorso al TAR contro il parere favorevole alla vinca che il comune di Vasto ha rilasciato per il cementificio a freddo di Punta Penna. WWF e Lega Ambiente contestano il progetto che è a pochi passi dalla riserva naturale di Punta a Derci. Un progetto sciagurato, così WWF e Lega Ambiente definiscono la realizzazione di un cementificio a freddo in località Punta Penna di Vasto, a pochi passi dalla riserva naturale regionale di Punta a Derci. Ieri sul tema era intervenuto il direttore generale dell'Arta, Abruzzo Francesco Chiavaroli, annunciando di aver costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare con l'obiettivo di avere un'esatta cognizione delle potenziali interferenze dell'attività produttiva sull'area protetta. Sotto accusa c'è il parere favorevole che il settore urbanistica del Comune di Vasto ha rilasciato rispetto alla valutazione di incidenza ambientale Vinca riguardante il progetto di cementificio a freddo che una società di Foggia, la ESCAL SRL, vorrebbe realizzare in un capannone già esistente della zona industriale di Punta Penna nella fascia di rispetto della riserva naturale di Punta a Derci. Uno che è sbagliato, che non tiene conto delle criticità ambientali e che a nostro avviso dovrebbe essere cancellato. Ci auguriamo che lo possa fare la magistratura se il Comune di Vasto non lo farà lui stesso in autotutela cancellando questa assurda scelta. Quello che è evidente è la difficoltà che hanno i Comuni nell'affrontare questo procedimento che di per sé è complesso perché richiede un tavolo multidisciplinare e delle competenze trasversali. A detta delle stesse amministrazioni, caso specifico l'Ufficio dell'Urbanistica di Vasto, ha manifestato pubblicamente la difficoltà nell'affrontare una decisione di questo tipo e quindi chiediamo che la Regione si riappropri di uno strumento che può garantire attraverso l'esercizio diretto la giusta pereguazione delle problematiche ambientali e sociali ma anche economiche tenendo al centro l'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo o della singola opera. Ammonta ad oltre un milione di euro il maxirisarcimento che il Comune di Scurcola Marsicana dovrà pagare a 19 aziende italiane che negli anni 90 scaricarono fanghi sui piani palentini. Negli anni 90 infatti la forestale scoprì nei terreni intorno a Scurcola fanghi provenienti dalla depurazione e rifiuti definiti tossici e nocivi. Subito partì un'indagine con 88 indagati e nel 1993 la società Biolite scoprì le carte spiegando che aveva l'autorizzazione per smaltire in quel territorio fanghi biologici. L'amministrazione comunale nel 2001 ha chiesto un risarcimento danni all'azienda ma il Tribunale di Avezzano ha respinto questa richiesta perché non sarebbero stati danneggiati i beni ambientali anzi condannando il Comune. Ci racconta questa storia la redazione di Info Media News. Il caso Biolite nella Marsica è una ferita di vecchia data. Datata certo ma non passata nel dimenticatoio. Il sindaco di allora di Scurcola Marsicana era Vincenzo Silvestri. La discarica scoperta a seguito di una vera e propria soffiata da Alvaro Frezzini venne sequestrata dal NOE di Roma ossia dal Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri il primo aprile del 1996. Lei come scoprì la discarica? Mi fui avvertito da delle persone del posto di Scurcola. Rimane la puzza, rimane il fetore in mane che questi fanghi mandavano quando venivano trasportati e quando qui sopra si mescolavano, si lavoravano per portarli poi al deposito definitivo. La falda acquifera si trova a pochi metri di profondità quindi il sistema di falde dei piani palentini poteva essere decisamente tutto inquinato. Già da tempo pure con Alvaro avevamo intenzione di fare un qualcosa, di cercare di formare un comitato se è possibile, come ho detto intercomunale e vedere se premendo con l'istituzione, facendo delle azioni, è possibile poter effettuare carotaggi. Abbiamo detto alla Regione quali sono le condizioni economiche oggi del Comune che non può assolutamente far fronte ad un impegno così gravoso per poter far fare di nuovo dei carotaggi, dei sondaggi e procedere poi alla bonifica di quello che è il sito. Scurcola si è ritrovato nel 2014 con questa condanna sulle spalle e quindi condannato a pagare circa 1 milione e 100 mila euro a queste ditte che avevano comunque creato questo danno in mane sul territorio. E' stata accolta la richiesta di appello e adesso si sta procedendo all'appello. Andiamo avanti, restiamo sempre in provincia dell'Aquila. Sabato 10 febbraio verrà riconsegnato alla cittadinanza, grazie all'impegno dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, il municipio di Barisciano, sede storica del Comune. Oltre 1 milione e mezzo di euro i lavori effettuati. Vediamo. Verrà riconsegnata sabato 10 febbraio la storica sede del municipio di Barisciano danneggiato dal sisma del 6 aprile. Si terrà sabato 10 febbraio, infatti, la cerimonia di rinaugurazione e riapertura della sede storica del municipio di Barisciano, gravemente danneggiato dal sisma ed ora reso nuovamente agibile e a servizio della comunità. Grazie ai fondi stanzati dalla delibera Cipe 135 del 2012, messi a disposizione dall'Ufficio Speciale della ricostruzione del cratere, di cui è titolare pari esposito, pari a oltre 1 milione e 500 mila euro e altre risorse del Comune per ulteriori 200 mila euro con il supporto del provveditorato interregionale alle opere pubbliche, Lazio, Abruzzo e Molise, che ha svolto il ruolo di stazione appaltante dell'intervento. In meno di due anni sono stati completati i lavori di recupero e miglioramento sismico, volti a salvaguardare le caratteristiche dell'edificio, a ripristinare gli elementi di notevole valenza architettonica e a eliminare le carenze strutturali, ripristinando la funzionalità dei locali e adeguandoli alle normative vigenti. Il municipio verrà intitolato a Paolo Borsellino e Giuseppe Falcone e dopo la posa delle bandiere presso la rinnovata sala consigliare interverranno, oltre al sindaco Francesco Di Paolo, tante altre autorità, compreso Fabrizio Barca, già ministro per l'accusione territoriale e il dottor Gianni Letta, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma ci saranno anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli e tanti altri ospiti di spessore. Ora siamo alla pagina dello sport, partiamo dal calcio e dalla Serie B. Seduta singola mattutina per il Pescara, recuperato Capone, assente Campagnaro, differenziato per Coda. Con la Salernitana potrebbe dunque esserci il debutto al centro della difesa di Gravillon. Dopo l'allenamento sono stati presentati sei volti nuovi del mercato di gennaio, oltre appunto a Gravillon, anche Falco, Fiamozzi, Amga, Macin e Bunino. A margine della conferenza stampa abbiamo avvicinato il presidente Daniele Sebastiani, con cui abbiamo parlato dell'allenatore Zeman, delle plus valenze e dell'obiettivo playoff. Sentiamo l'intervista di Andrea Costantini. È un pezzo del futuro del Pescara perché sono intanto giocatori giovani, giocatori di grande qualità e i giocatori ci possono assicurare almeno i prossimi anni. Poi si sa che questo è un mondo dove se questi giovani di qualità fanno bene hanno altre ambizioni, però intanto abbiamo gettato le basi per il prossimo anno per ripartire in qualsiasi categoria uno si possa trovare con un gruppo già di qualità. Molti tifosi dicono però che il presidente va a caccia di plus valenze e quant'altro. Lei cosa si sente di ribattere? Ma io non devo ribattere nulla perché purtroppo il calcio è bello anche per questo, perché tutti possono parlare anche quando non conoscono i fatti. Se non si fanno plus valenze ma quelle reali non c'è possibilità di portare avanti le squadre. Se la Juve vende Pogba per comprare i Guain penso che il Pescara possa vendere anche la rete delle porti per portare ad andare avanti. Quindi non devo ribattere a nessuno, io ribatto con i fatti sempre. La realtà è che il Pescara è da dieci anni nelle mani di questo gruppo, non ha mai dato problemi di nessun tipo, non ha mai avuto nessun tipo di penalizzazione. In questi anni sono stati fatti degli investimenti importanti che il Pescara in 80 anni di storia non ha mai avuto. Sono passati per Pescara fior fiori di giocatori che oggi se guardiamo la Serie A tra allenatori e giocatori che sono venuti a pescare e sono passati per Pescara praticamente ce ne sono tantissimi e di cosa dovrei parlare e cosa dovrei ribattere. Sono i fatti e parlano per noi. Presidente, lì ha detto se non sarà playoff sarà fallimento. Ribadisce questo concetto perché è un concetto appunto di tale forza? Perché io sono convinto di avere una squadra forte e se questa squadra non dovesse centrare il traguardo dei playoff sarebbe un fallimento, lo ribadisco veramente con forza perché se io vado ad analizzare le rose della Serie B e analizzo la mia a meno che non ci addormendiamo o diventiamo una banda di sciagurati non possiamo che centrare questo obiettivo. L'ultima, Presidente, un eventuale mancato risultato con la Serenitana potrebbe rimettere in discussione Zeman? Ma noi non rimettiamo in discussione nessuno perché ripeto noi abbiamo, in ogni anno della mia gestione abbiamo sempre portato avanti dei progetti non vi dimenticate che l'anno in cui abbiamo vinto il campionato a Terni e Massimo Oddo si era praticamente dimesso e dopo quante partite, quante sconfitte, mi sembra 5 o 6 9 risultati senza vincere bisogna credere in quello che hai, nell'organico che hai in quelle che sono le risorse che tu hai io penso, ripeto, ribadisco che questa sia una squadra, un gruppo forte e quindi deve uscire fuori per forza da questa situazione. E tra i nuovi arrivati, come abbiamo detto in precedenza c'è Falco su di lui, c'è grande attesa per vedere all'opera l'attaccante che sta recuperando però da una distorsione al ginocchio subita nel primo allenamento effettuato con la maglia bianca azzurra il giocatore conta di rientrare in gruppo entro una decina di giorni andiamola ad ascoltare Sto meglio, sto cercando di recuperare il prima possibile sicuramente è stato un imprevisto che non avevo messo in considerazione quindi sto recuperando e spero di essere disponibile a più presto Quando potresti rientrare? Posso rendicare più o meno? Ma io spero, settimana sto lavorando a parte spero settimana prossima di fare qualcosa in gruppo e magari essere già disponibile se non sicuramente la settimana dopo rientro in gruppo Ho trovato un ambiente dove si può fare veramente bene ho trovato un gruppo, infatti ho legato già con tutti è una squadra di qualità c'è il mister che mi può dare una grande mano quindi ho tutto per fare bene come una squadra Sì, 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 no come ha detto anche Gravi essere allenato dal mister tre mesi, quattro mesi, un anno secondo me ti cambia totalmente anche il modo di pensare All'inizio sono arrivato, non ero in condizione poi ho avuto un infortunio e sono stato un mese fermo poi sinceramente ho preso un po' la botta dell'anno scorso ero convinto di rimanere a Benevento e fare la Serie A non è stato così, quindi un po' mentalmente l'ho pagato un po' però adesso ho riazzerato tutto quindi spero di riconquistarmela magari anche con il Pescara Quindi trequartista, esterno chiaro che nel modo di Zeman il trequartista non c'è ma tu sei più l'uno o più l'altro? Sono quello dove mi mettono quindi ho fatto il trequartista, ho fatto l'esterno quindi posso farli entrambi il mister con il 4-3-3 sicuramente vorrebbe farmi giocare largo e sono contento perché posso rientrare col Mancino Hai fatto male vedere quella sconfitta del Pescara con Perugia? Sicuramente avrei voluto giocarlo però sì, un po' mi ha dato, ci sono rimasto male però va bene, il campionato è lungo, ci sono tante partite quindi dobbiamo riprenderci per forza Sulla carta sì, c'è sempre il campo a giudicare quindi però ho trovato un gruppo di qualità e possiamo toglierci soddisfazioni Adesso scendiamo di categoria per parlare del Teramo sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria a dirigere la partita di sabato sera alle 20.30 tra Fermana e Teramo assistenti De Chirico di Barletta e Lillo di Brindisi il momento del Teramo non è affatto semplice ma il difensore Sales non ci sta e ostenta fiducia ed ottimismo in vista delle prossime gare ne usciremo fuori, garantisce l'ex difensore della Carrarese che andiamo ad ascoltare Io sono un giocatore che faccio anche delle partite nel mio agonismo però io credo che anche i miei compagni lo dimostrano in maniera diversa però anche i miei compagni lottano su ogni pallone magari a volte io sono un po' più eccessivo a volte mi devo anche trattenere un po' di confronto ai miei compagni però ripeto, questo è un gruppo dal primo all'ultimo che lotta su ogni pallone e credo che comunque dobbiamo continuare su questa strada qua è vero che siamo in un momento di difficoltà dobbiamo chiuderci tra di noi e lottare ogni domenica per cercare di portare più punti possibili da qua a fine campionato secondo me è anche un momento che ci gira un po' male perché comunque a volte gli episodi guarda domenica abbiamo preso un tiro da tre quarti e abbiamo fatto gol poi dopo sinceramente abbiamo creato magari in questo momento ci manca anche un pizzico di fortuna che magari in altre partite ci è andata meglio ma pareggiando le partite magari al novantesimo in questo momento siamo un po' in difficoltà ripeto anche perché i risultati comunque non ci stanno dando bene quindi sai, poi prendi i gol e non è sempre facile andare a recuperare però ripeto, siamo un'ottima squadra è vero, ora giustamente ci prendiamo le nostre critiche tutte quelle che volete però dobbiamo continuare, non pensare a nessuno e stare dentro Spolato e cercare di creare uno spirito per andare a cercare di fare più punti possibili io sono fiducioso e quest'anno c'è ne usciamo la grande secondo me anche se non siete convinti però va bene così mi fate queste facce così però va bene questo era l'ultimo servizio per quanto riguarda la prima edizione del TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sulla pagina YouTube e sul sito www.tv6.it grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti